E' questa nebbia qua, si farà un po' fatica a giocare Va bene Va bene ragazzi Si, è d'arte Sposte di qua Un po' disturbato Vieni Simo vieni Quanto è tempo? Scusi, quanto è tempo? 25 ragazzi. Scusi, quanto è tempo? 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 Siamo con calma, più concentrati, più decisi, dai ragazzi, stiamo attenti, veglia, tranquilli, bleiben bene, sono andati a fare soldati. Sono e e gi stable, sono ad Даже API. Il vero è cadita, è buono. Va bene, dai! Facciamo un po' di più facciamo. Ma è passato un po' di più, non è vero. Non è proprio da funzionare. Vediamo un po' di più. Vediamo un po' di più. Vediamo un po' di più. La difesa. Bene, vediamo un po' di più. Non è la madre. Sembr circulating. Guarda le parti. Non è venero. Non è un po' di più interiore. � pasti si impeduci. Guarda chi. Chiede lìmmi. Allora, la faccia. Ah, s 민ai, mangio. qui c'è ragazzi bisogna mettere il fendinebbia il fendinebbia dai ragazzi corraggio mi stanno giocando male stanno giocando bene bravo Filippo attenzione, attenzione bravo 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 Sì, è troppo lungo. Raga, bravo. Sì, c'è lì, c'è lì. Sì, c'è lì. Raga, si messa male, si messa male. Raga, si messa male. Sì, c'è lì, c'è lì. Resta, s'ho. Raga, s'ordinato. Raga, s'ordinato. Vieni Giccovi che poi? Vieni Giccovi che poi? Vieni Giccovi che poi? Va bene, sai, 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 può essere, può essere. No! Atenzione, attenzione, difesa. Va bene. Atenzione, attenzione, difesa. Eh, per tutti purtroppo. Qual è il problema? Che la vedi all'ultimo. Faccio fatica a vederlo. Eccolo, ecco, ecco. Si vede o non si vede? Si, non si vede, si vede. Raga, dai. Questo vuol poter evitare. Come fa, lì? Sì. C'è sempre un'interpretazione No, quello si, sempre Uno decide di far giocare O di fischiare tutto Ma lei è male che di volta in volta O di volta in volta Non c'è mai una struttura No, si C'è già la nebbia però Si, è visibile però Bene, per le lunghe non riesco a vedere Vai ragazzi Attaccata l'uomo, Pappo Che c'è la sua rimanda? Pressione, pressa giù Vai qui, vai Vai qui, vai Rado, vado, vado Vado, vado, vado Vado, vado, vado Vado, vado, vado Vado, vado, vado Guarda dove la fanno Guarda dove la fanno Rado, giro il tuo, attaccato l'uomo Vado, vado, vado Vado, vado, vado Dai, dai, dai Dai, 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 cattivi raga Hanno, dai, dai C'era, d'acqua Voca, vaca Voca, vaca Vado Collientiando Vado è sufficientemente sensibile sì nei limiti del possibile quello che riusciamo a vedere no diciamo si vorrebbe davvero difendire per riprendere benissimo 18 18 18 Gioppa, dai Gioppa, dai Gioppa Gioppa, dai Gioppa, dai Gioppa Gioppa, dai Gioppa, dai Gioppa, dai Gioppa, dai Gioppa 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 Gioppa, dai Gioppa, dai Gioppi Gesù Grazie a tutti. 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 Non giocare meglio, sennò non facciamo niente. Grazie a tutti. 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 vai a tutti. 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 a tutti.